Il capitano Cury lo descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa, non lo raggiungerai più. Questo è tutto da vedere. St. John, chiudo. Ci sono. Ok. Vediamo dove. Vediamo dove. Vediamo dove. Vediamo dove. Che abbiamo qui? È la pista giusta? Il colonnello l'ho avvistato. No, ma dai! Non ci arreghi! Figlio di un cane! Non farlo fuggire di... Come vuoi! No! No! Complichi solo le cose! Come vuoi tu! No! 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 Ah! Merda! La moto! Ah! Merda! La moto! Come vuoi! No! No! Qui, pezzo! Sono qui, pezzo! Sì, Giorno! Perfetto! Andrà scontato! Ehi! Ha, di Dio! Come andiamo, vecchio Dio? Direi che hai avuto una giornatina movimentata. Come piace a te. Non mi prenderai vivo. Beh, l'ho appena fatto. Non che mi interessi, per me cambia poco. Anarchici di merda. Colonnello l'ho preso. Trasmetto subito le coordinate. Ottimo lavoro, caporale. Non lasciarmi qui. Non vediamo. Lasciarmi qui. Aspetta, non puoi abbandonarmi, i furiosi. I furiosi mi... Aspetta, non lasciarmi. Ti prego. Ti prego! Si, eu vi, usciamXi.com panaoob reviewed. Si, in here. Aspetta finة. Grazie a tutti No, un attimo, io non avevo finito di bruciare i viti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti